Sono vuoto, sono scarico. 22 e 23 di sabato, no martedì, non ricordo, non ricordo, no minimo, 22 e 27, la luce verde, la luce blu, due lampade, una piccola, una potente, fanno due luci, fanno. Allora siamo in due. 22 e 34, ora 35, spostato su un fianco, scomodo, sono una bacinella bianca, con una zanzara morta al centro, sono. 22 e 39, seconda serata. Dovrei prendere la vita con più leggerezza. Dovrei avere una crescenza in frigo, una formaggetta cremosa, ma non riesco neppure a farmi crescere le unghie, come potrei spalmarla sul pane? Non riesco neanche a muovermi adesso, non riesco a dirigere il... Parole, le persone. Sono solo barriere da scavalcare, sono solo righe tracciate con un penarello, con pochissimo inchiostro, non hanno niente da dire. e io, in definitiva, potrei contare fino a tre. Poi tirare tre pigne in faccia ai passanti, dire sono stato io. Io. 22 e 59. 23. Tra un'ora è mercoledì. Cazzo. Cazzo.